Cardi e i Superfoodies Episodio 6 Ciao, sono Big Nanas, sono ricco di vitamina C e fonte di minerali come il potassio. Ciao Groomix, ho un problema, la gente non mi mangia perché fa fatica a sbucciarmi. Non preoccuparti Big Nanas perché è tua vita a digerire e a sgonfiare tramite l'illuminazione dei liquidi in cesso. Consigliati Cardi, bevi succo di arancia o di ananas invece di una bibita gasata. Lavoro di Matilde, Mattia, Giorgio e Rebecca.